E' un'emozione unica, partire a casa è sempre bello. E speriamo di non farci prendere troppo dalle emozioni e fare delle belle gare. Finalmente il sole, sì, c'è molto sole e le montagne sono molto belle, è come resta per la sua vita. E' un'emozione molto bello. E' un'emozione molto bello, è un'emozione molto bello. E' un'emozione molto bello. E' un'emozione molto bello. E' un'emozione molto bello per la nostra attrazione. E' un'emozione molto bello, è un'emozione molto bello. E' un'emozione molto bello per la nostra attrazione. In Ruppoling è stato molto bene, e ho spero di avere una buona posizione. È l'ultima Saison della mia sportività, e sono molto felice, che non sia qui. E sono molto triste, perché per l'anno prossimo anno c'è una città una città. e è stato il mio sogno di competire per il mio migliore risultato. La mia carriera è molto lunga e credo che è il momento di finire.